Il centro del programma di potere al popolo è appunto la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale, di cui tante volte si parla e poche volte si vedono i fatti. Sicuramente noi parliamo di una seria politica di progressività fiscale, in Italia l'articolo 53 della Costituzione ce lo ricorda che la fiscalità progressiva è il cardine della nostra Costituzione e della nostra Repubblica in termini di politica fiscale. L'introduzione di una patrimoniale è la prima cosa di cui parliamo, in Italia 600 mila persone hanno dai 4 milioni di euro in su di ricchezza, una patrimoniale all'1% ci consentirebbe con 4 mila euro a testa per tutte queste persone che i soldi ce li hanno di reinvestire in spesa sociale 2,5 miliardi di euro, una patrimoniale del 2% ci consentirebbe addirittura di reinvestire 5 miliardi di euro in spesa e servizi sociali per finanziare lo stato sociale che in Italia è stato completamente devastato dagli ultimi governi di centrodestra e di centrosinistra. Una seria lotta all'evasione. L'ultimo rapporto dell'Università Ca' Foscale di Venezia a Senato a gennaio ci parla di 130 miliardi di imponibili che vengono evasi ogni anno, vuol dire 38 miliardi di imposte all'anno. Tanto per intenderci in 18 anni recuperare questa evasione ci consentirebbe di ripianare tutto il debito pubblico che il nostro Paese ha. Come la recuperiamo questa evasione? Sicuramente contrastando i paradisi fiscali, contrastando le delocalizzazioni, contrastando chi apre le aziende e poi scappa via per recuperare manodopera a basso costo in altri Paesi. E poi soprattutto questo binomio tra tasse e spesa pubblica. In Italia i governi di centrodestra e centrosinistra hanno tagliato i servizi sociali perché dicevano di voler contrastare gli sprechi. Noi con i nostri spazi sociali, con le nostre associazioni da anni attuiamo una cosa che si chiama controllo popolare sulla spesa pubblica. Andiamo laddove lo Stato spende i soldi e controlliamo come questi soldi vengono spesi. È importante che i soldi vengano spesi in maniera adeguata e che i servizi sociali non siano penosi perché quello è il problema del nostro Paese. Spesso si dice che la pressione fiscale è troppo alta in Italia. In realtà è sul livello degli altri Paesi europei addirittura più bassa dei Paesi scandinavi. Ciò che cambia è che i servizi sociali sono veramente di una qualità mortificante. Allora controllare la spesa pubblica e soprattutto andare a far pagare le tasse a chi i soldi ce li ha per redistribuirle tra chi è in difficoltà e chi di tasse ne deve pagare necessariamente di meno. Sono il cardine del nostro programma. Noi parliamo spesso di come questi soldi devono essere spesi. Quindi servizi sociali, sanità, istruzione, piani pubblici di assunzione sono sicuramente quello che intendiamo fare per sistemare le cose nel nostro Paese. Quando si parla di tagli alla spesa pubblica, quello che in realtà si fa è che si pensa che tagliare la spesa pubblica possa davvero ridurre gli sprechi. In realtà non è assolutamente così. Se noi con il controllo popolare che attuiamo tutti i giorni nella nostra attività politica andiamo a smascherare tutte le finte cooperative, le finte associazioni, l'abbiamo fatto in Campania recentemente, oppure andiamo a far chiudere quei centri di accoglienza di migranti che lucrano sulla pelle della povera gente e dei migranti rubando soldi pubblici, potremmo sicuramente avere servizi migliori. Quindi io quello che ci tengo a dire è che la progressività fiscale, una patrimoniale, una lotta all'evasione sono il cardine del nostro programma e sono l'unico modo con cui poter rilanciare il Paese. Il lavoro è sicuramente quello di cui ci occupiamo da sempre. A Cava abbiamo aperto la Camera Popolare del Lavoro negli ultimi anni che si occupa di stare a fianco delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici della nostra città e della nostra provincia, della nostra regione. Un lavoro stabile e sicuro, dei piani di assunzione per poter garantire un lavoro non solo stabile e sicuro, ma delle assunzioni nel settore sanitario e socioassistenziale. Quello che diciamo sempre, il centro-sinistra ha fatto peggio del centro-destra sui programmi rispetto al lavoro. La cancellazione dell'articolo 18, il Jobs Act, sono stati una vera scure sul capo di tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese. Quello che è importante è che noi sul lavoro crediamo che il Jobs Act, la riforma Fornero debbano essere aboliti. Parliamo di una riduzione delle ore di lavoro, parliamo a 32 ore, parliamo perché spesso addirittura noi abbiamo lavoratori che fanno tanti straordinari che non vengono nemmeno retribuiti. Far lavorare tutti e farli lavorare a 32 ore consentirebbe a tutti di vivere una vita dignitosa e di poter anche dare maggiori posti di lavoro. In realtà, soprattutto sul lavoro, c'è la nostra priorità del programma, i giovani e il lavoro. L'emigrazione che da Sud ha dei dati che sono una vera e propria catombe. 3.400 ragazzi negli ultimi due anni nella provincia di Salerno si sono cancellati dalle anagrafi per trasferirsi all'estero. Figuratevi quanti ragazzi si sono trasferiti e nemmeno si sono cancellati dalle anagrafi. Negli ultimi 20 anni 1.130.000 ragazzi sono emigrati dal Sud Italia al Centro Nord e all'estero. Negli ultimi 15 anni 200.000 laureati del Sud sono emigrati al Centro Nord e tuttora al Centro Nord ci sono il doppio dei laureati che sono rimasti al Sud. Sono dei dati che sono un'ecatombe, soprattutto nella zona Sud della nostra provincia. Si parla di paesi che tra pochi anni potrebbero essere scomparsi, secondo i dati Istat. Dunque un lavoro stabile e sicuro e dei piani di assunzione pubblici. È importante che soprattutto in un'epoca di grosse difficoltà sociali lo Stato si faccia carico delle sue funzioni. Allora noi siamo sicuri che lo Stato una funzione ce l'ha. Ed è quella di tendere la mano alle persone in difficoltà in questa epoca storica. Allora dei piani di assunzione pubblici, la possibilità non di costruire grandi opere magari nel nord Italia dove vanno i nostri operai, i nostri giovani lavoratori a svolgere lavori massacranti, ma dei piccoli cantieri nelle nostre zone. Ad esempio sulla messa in sicurezza del territorio, come abbiamo visto quest'estate, sulle nostre montagne dove i canader abbassavano le fiamme degli incendi e poi non c'erano le squadre via terra che potevano intervenire. Questa è una cosa mortificante. Dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio e far lavorare i nostri giovani qui e lo Stato deve contribuire da questo punto di vista. Sulla scuola e l'istruzione. La scuola in questo momento vive una iper specializzazione dei settori. Fateci capire perché se la flessibilità del mondo del lavoro è necessaria, come ci dite, non è chiaro perché chi fa a 14 anni la scelta di iscriversi a un istituto tecnico dovrà essere condannato a vita ad avvitare bulloni e non potrà avere un'educazione non tanto ad avvitare bulloni e basta, ma a conoscere i propri diritti, a vivere la propria vita a 360 gradi. Se un ragazzo si iscrive a un istituto tecnico deve avere la possibilità anche di imparare un lavoro, ma anche di iscriversi all'università qualora faccia la decisione di iscriversi presso l'università a 18-19 anni. Il lavoro dignità a tutti i docenti, le docenti, i maestri e le maestre che per anni sono stati chiamati fannulloni e mortificati, istruzione pubblica e non privata. Devo interrompere. Sul welfare sicuramente tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di tasse, è importante che attuino un riequilibrio sociale della nostra società. Il welfare attraverso il rifinanziamento dello stato sociale, attraverso una progressività fiscale, attraverso un'istruzione gratuita e garantita a tutti, è sicuramente privilegiato nel nostro programma. Quello che diciamo con il welfare, le nostre idee sul welfare sono quelle di un reddito minimo garantito, di un piano di assunzioni e di finanziamento dello stato sociale serio e soprattutto di un piano nazionale per la non autosufficienza, l'abbiamo chiamato, incentrato sull'assistenza domiciliare integrata. Che cosa fa l'assistenza domiciliare integrata? Di fatto aiuta tutte le persone malate, inabili o comunque in difficoltà. Non so se lo sapete ma nei nostri comuni in questo momento l'assistenza domiciliare integrata di fatto non viene più finanziata. Le spese per i servizi sociali nel comune di Cava di Tirreni, così come nei comuni della nostra provincia, della regione e del paese non sono più considerate, non sono minimamente considerate dalle amministrazioni locali. La scusa che continuano a debilare è quella che non ci sono degli investimenti adeguati sul piano nazionale. È evidente che questi soldi si devono prendere sul piano nazionale e devono essere investiti per le persone in difficoltà. Sulle pensioni c'è un piano importante nel nostro programma. Noi diciamo in pensione a 60 anni, diritto alla pensione a 60 anni o con 35 anni di contribuzione. Io ti parlo da ragazzo di 25 anni di Cava. Per noi è previsto un piano previdenziale e pensionistico insostenibile, logicamente insostenibile, perché si dice che io dovrei andare in pensione forse oltre i 70 anni, ma si sa benissimo che dopo i 60 anni si diventa anche meno produttivi sul lavoro. Quindi io come potrei fare ad arrivare vivo oltre i 70 anni eventualmente percepire il 30, il 40 e il 50% della retribuzione che ho percepito per una vita. È chiaramente insostenibile. Quello che diciamo noi per questo pensione a 60 anni, il ritorno al sistema retributivo e soprattutto un piano di separazione tra assistenza e previdenza. Perché il fatto che assistenza e previdenza siano unite troppo spesso ci ha fatto pensare che davvero le pensioni siano insostenibili col vecchio sistema antefornero. Non era così, non è così. Le pensioni dei dirigenti hanno ammazzato il sistema che invece era inattivo. Cioè perché le pensioni dei lavoratori dipendenti non sono sempre state sostenibili. Sull'accoglienza dei migranti. Sull'accoglienza dei migranti noi crediamo che l'accoglienza debba essere garantita a tutti e soprattutto debba essere diffusa sul territorio. Non ai casermoni abbandonati che vengono riempiti con centinaia, migliaia di migranti e vengono creati dei veri e propri ghetti. Vengono utilizzati per mano d'opera a basso costo. Guarda caso spesso i centri di accoglienza sorgono vicino ai campi dove poi gli stessi italiani datori di lavoro si mettono a sfruttare per pochi euro al giorno lavoratori migranti. Noi diciamo accoglienza diffusa sul territorio e controllo dei casse e della spesa pubblica. Perché attenzione non so se ricordate il migrante sparato a caserta, quel ragazzo stava dormendo in un bagno. Quello che diciamo è che bisogna svelare tutta una serie di bugie. I migranti non percepiscono 35 euro al giorno. 2,50 euro e noi ci entriamo nei centri. Vi assicuriamo che assalerno questi 2,50 euro. I migranti non sanno cosa siano. Adesione al circuito sprarra dei comuni e controllo mai più camorra nell'accoglienza in questo paese. Devo interromperti. Noi vorremmo, in realtà però nessuno si ritrova sui nostri contenuti. Questo è il problema. Non abbiamo pregiudiziari di nessun tipo. Il punto è riuscire ad avere poche idee ma chiare. Noi come candidati sul territorio, come candidati a livello nazionale veniamo da più di 300 assemblee su tutto il territorio nazionale che hanno animato la lista potere al popolo dal basso e hanno deciso i candidati. Hanno deciso il programma e l'hanno scritto collettivamente. All'interno di questo programma, l'ho detto prima, ci sono poche idee ma chiare, trasparenti, che parlano di redistribuzione della ricchezza e di giustizia sociale. Se ci sono delle persone che come noi sono animate da questi ideali è importante che facciano parlare per loro anche i fatti però. Perché se abbiamo in questo momento tutto l'arco parlamentare che dice a parole che il Jobs Act non gli piace, che la riforma Forlena non gli piace, io poi vorrei capire perché l'hanno votata. Perché l'hanno votata e con quale credibilità oggi si presentano davanti agli elettori. Noi siamo persone che sui territori hanno sempre costruito delle esperienze sociali, di attivismo politico che sono minimamente riconosciute oggi nelle nostre città. Le persone sanno chi siamo e sanno cosa facciamo tutto l'anno. Noi siamo noi a un'esperienza elettorale ma pensiamo di poterlo fare con le mani pulite, con le idee chiare, con la trasparenza di chi le idee non le ha mai cambiate nella propria vita. Allora noi crediamo che sia importante la coerenza e la credibilità nella politica. Noi l'unico voto utile, lo diciamo sempre che, stiamo dicendo appunto che è per potere al popolo, tutti i sondaggi che tu hai citato fanno chiaramente trasparire che non ci sarà nessun governo. Quindi è importante che il voto utile in questa fase storica sia dato a una lista come la nostra che tutto l'anno sul territorio svolge delle attività sociali e che ha dei militanti riconosciuti, delle persone in cui crediamo, che non si danno a vendere i nostri diritti il giorno dopo nel Parlamento, alla Camera dei Deputati e al Senato. Quando parliamo di programmi, noi siamo pronti a prendere un impegno con gli elettori, siamo pronti a prendere l'impegno di chi poi sul territorio ci riconosce, perché nella provincia di Salerno la stiamo girando praticamente tutta in queste settimane e da Sapri fino a Scafati c'è una riconoscibilità dei candidati per cui noi ci presentiamo, con molti ci conosciamo già, altri ci hanno sempre visto in questi anni impegnati e c'è una risposta che noi dovremo dare quando entreremo in Parlamento rispetto al nostro operato, rispetto a ciò che facciamo e se non facciamo ciò che abbiamo scritto ai nostri programmi, saremo noi i primi a tornare a casa e a dire non siamo stati all'altezza del compito che ci avete dato, ma noi ci conosciamo però, sappiamo che le persone che abbiamo candidato sono le migliori che potevamo presentare, sappiamo che sono le persone che possono rappresentare le idee di milioni di ragazzi e di ragazze che in questi anni hanno riempito le piazze, mentre stavano a far passare dentro il Parlamento le riforme più antipopolari e più disastrose forse degli ultimi 30 anni e che ci hanno tagliato il futuro. Quindi alleanze, beh, il centrodestra che parla di flat tax a me un po' fa ridere, no? Perché a parte di parlare di una tassa chiaramente incostituzionale fa un piacere ai ricchi. La stessa Lega Nord dei partiti fascisti che in questo momento speculano sulla pelle dei migranti, fanno un'operazione meschina, fanno un'operazione violenta e di odio razziale davvero sporca. Io credo che dare un voto concreto, costruttivo per la ridistribuzione della ricchezza e per la giustizia sociale sia l'unico modo per poter garantire a questo Paese un futuro migliore. Sulle alleanze, chi ci sta per noi va bene, l'importante è che alle parole faccia seguire i fatti, perché noi promesse non ne facciamo, vogliamo vedere i fatti e la concretezza. Io ho la fortuna e l'orgoglio di essere l'unico capolista cavese all'interno delle liste elettorali alla Camera dei Deputati per questa tornata e quindi credo di poter banalmente dire quello che siamo stati e che abbiamo provato a costruire con fatica in questi anni. Io ricordo quando a gennaio 2016 ero tra le migliaia di persone che occupavano il casello autostradale di Cava per difendere il nostro ospedale e difendere il diritto alla salute di Cava dei Tirreni. Io quella rabbia negli occhi delle persone la ricordo molto bene. Oggi noi continuiamo ad avere un'assistenza sanitaria precaria, continuiamo ad avere un Paese devastato dai tagli e dalle riforme antipopolari che ci portano ad avere il 6,3% delle famiglie che vive in povertà assoluta, il 10,6% che vive in povertà relativa sono dati mortificanti e massacranti, molto dolorosi. Penso che a Cava dei Tirreni noi lo sappiamo bene, nella provincia di Salerno lo sappiamo bene qual è la condizione di vita dei lavoratori, dei disoccupati, degli studenti che conosciamo. Penso alle montagne che incendiavano quest'estate nella nostra città e penso alla devastazione ambientale della nostra provincia quest'estate e penso alle riforme che hanno tagliato il corpo della forestale e tutte le possibilità di soccorsi che non arrivavano praticamente mai. Quindi credo che noi un voto lo chiediamo, lo chiediamo come dicevo prima con le mani pulite e le idee chiare su quello che vogliamo per questo Paese, perché la redistribuzione e la ricchezza, la giustizia sociale sono il nostro programma. Le mani pulite, le idee chiare e la coerenza delle idee sono la nostra forza per chi ci conosce e per chi ci conoscerà. Potere al popolo è una lista con le idee chiare, soprattutto nella provincia di Salerno la riconoscibilità del territorio secondo me è la nostra forza e delle tantissime assemblee che ci hanno legittimato. Quando parliamo dei servizi sociali nelle nostre città parliamo di qualcosa che non dice più nessuno ormai in questo Paese, perché i diritti degli ultimi, degli esclusi, degli emarginati non sono ormai più tema di campagna elettorale. Noi invece abbiamo il coraggio di parlare proprio di loro, abbiamo il coraggio di parlare delle lavoratrici a Fisciano, delle pulizie che lavorano a 300 euro al mese e che abbiamo seguito nella lotta, abbiamo il coraggio di parlare di tutti i lavoratori di Villalba e Villa Silvia che sono stati per 5 mesi senza stipendio e con cui abbiamo portato avanti una lotta d'orgoglio che ha vinto quest'anno insieme anche ai sindacati e alla Camera Popolare del Lavoro. La nostra è una lista che a sinistra unisce e non divide. Tanti partiti, penso a Rifondazione Comunista, a Partito Comunista Italiano, a Eurostop, Partito del Sud, si ritrovano in potere al popolo e costruiscono questo percorso elettorale. L'orgoglio di questa terra può essere difeso soltanto da chi abbiamo visto fino ad oggi nelle lotte e continueremo a vedere dal 5 marzo in poi. Io penso di non essere mai stato una persona e con me tutti quelli che animano potere al popolo a cava che si fa vedere solo sotto le elezioni. Non sono mai stato candidato e non credo di essere un politico di mestiere. Credo però di avere la forza dei fatti dalla mia parte e dalla parte di tutti quelli che compongono la lista di potere al popolo. Noi ci siamo oggi, ci siamo stati fino ad oggi e ci saremo domani. Perché le idee chiare, potere al popolo, l'amore per la propria terra, sono qualcosa che non ci potrà togliere nessuno e che non ci lasceremo di certo strappare via dai mercanti in Parlamento che continuano a fare merce di scambio dei nostri diritti sociali.